Ciao ragazzi, allora, prodotti finiti questa volta make up, per cui vi faccio vedere i prodotti finiti, make up, sono un po' troppi, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, un commentino qua sotto e seguitemi su Instagram, queste sono le cose che dovete fare sul mio canale, per cui iniziamo con questo video allora, passiamo ai mascara, che sono uno del Glossip, che è questo, questo qua mi sembra che è viola allora, io l'ho usato, ah no, questo è nero, non so perché ho detto questo comunque ha lo scovolino così e non è male, però mi sembra che l'ho usato poco perché avevo troppi mascara per cui non sono male i mascara di Glossip, questo è quello che ho finito sul mascara poi, mascara di Kiko, che anche questo è buono, si è un po' rovinato tutto, non so perché l'unica cosa che non mi piace è lo scovolino, non mi sono trovata tanto bene, ma non è male cioè, mascare di Kiko non sono male, infatti l'unico problema che ho avuto è che qua si è praticamente rotto intanto che lo mettevo più, dopo un po' si rompeva comunque non è male, questo mascara qua di Kiko allora, sentite, la lavatrice, l'asciugatrice e il mio cane che è russa peggio di così non può andare, per farvi capire poi sto colletto, mi fa un po', vabbè poi, deodorante della Neutro Robbers, 48 ore invisibili questo non è male, mi sono trovata bene questo qui è quello, è buono anche come odore quello che giri, non mi vengono mai le parole comunque, è ottimo questo ve lo consiglio se volete prenderlo poi sempre mascara di Glossip allora, questo mi sono trovata bene perché è waterproof quando lo mettevi su non ti la, cioè non non ti levava il mascara anche se andavi a fare il bagno o ad esempio allora, io uso sia per piscina che per il mare in mascara waterproof e mi trovo bene con questo mi sono trovata bene l'unica cosa che si è un po' seccato e, cioè, è finito ed è un po' seccato per cui non l'ho più usato ma dovrei no, forse ne ho comprato un altro ma non è di Glossip da un'altra marca questo qua mi sono trovata bene per cui è anche ottimo come mascara poi mascara di Kiko questo anche mi sono trovata bene mi lasciavano sempre le ciglia lunghe non so comunque con tutti quelli che ho questo è anche ottimo come scovolino ed era facile da metterlo e anche con questo mi sono trovata bene ovviamente non credo che ci sarà dalla Kiko ma beh io faccio danni comunque niente questo è anche buono come come mascara poi passiamo a questo questo qua era colorato adesso vediamo se non so perché ma dopo un po' si sono seccati tutti non riesco neanche ad aprirlo comunque no non riesco questo sì questo è quello colorato si è seccato l'ho usato pochissimo perché poi era tipo su un verde verde chiaro cioè quando andavi in giro non è che potevi metterti questi mascara qua colorati anche perché poi dopo si vedeva e dopo allora alla fine non l'ho più non so perché l'ho comprati forse perché mi piacevano c'era uno così e uno viola vediamo se riesco ad aprire anche questo questo è un cinema sì ce l'ho fatta per farvi capire questo è un mascara viola e e son buoni eh ma non sapevo come metterli allora alla fine dopo un po' si sono seccati non li ho usati neanche tanto cioè poco li ho usati per farvi capire ma tanto poi alla fine un mascara non c'è più per cui poi ho finito questo prodotto della bottega verde del profumo allora i profumi della bottega verde non sono male sono buoni e io li compro sempre costano anche poco 15 euro mi sembra l'ho pagato questo adesso non so da quanti ml è ma è buono tipo questo è di Iris ed è buono li son trovata bene con questi ne ho altri e li sto ancora finendo poi questo invece è da bocciare l'ho preso da Bioshop che è un correttore in stick della Essence però l'ho preso sul sito del cioè è bocciatissimo ecco a parte che l'ho rotto dappertutto cioè l'ho rotto proprio come non so cosa era difficile da mettere io lo mettevo sotto qua tutte le volte che lo mettevo sotto facevo fatica a stenderlo di tutto e di più provato e facevo fatica per cui non mi son trovata per niente bene è bocciato per cui non vi consiglio di comprarlo perché è troppo duro e io lo sapevo che la maggior parte della marca della Essence non è che sia almeno su su di me non è che sia tanto cioè come marca io non è che mi trovo tanto bene per cui questo è bocciato non volevo non vedevo l'ora definirlo l'ho usato da tutto cioè da tutte le parti e di più anche sul viso non riuscivo a stenderlo poi passiamo alle liner che ne ho due le liner della Kiko non sono male l'unica cosa che il pennellino ha questi qua dopo un po' l'unica pecca di questi qua che dopo un po' cerchi di consumarli ma non riesci mai a finirli infatti queste sono diventate troppo liquidi e non l'ho più usati infatti sono tutte e due liquidi ce n'è ancora di prodotto credo anche tanto però dopo un po' sono diventati liquidi e alla fine parte che mi bruciavano gli occhi per cui mi sono trovata anche un po' male non so se me l'hanno regalati o non so se l'ho comprata io ma non li comprirei più perché non mi sono trovata tanto bene dopo un po' che sono diventati liquidi ho detto sì vabbè cioè ci sono certi prodotti che mi durano di più anche se sono scaduti per farvi capire poi questo qua della Sephora mi sono trovata bene ma l'unica cosa che do madonna infatti ce n'è ancora non finiva non finisce più è bello che è anche piccolo è di 2 ml il prodotto è piccolo ma il problema è che non finisce più questo coso poi non so perché quando lo mettevo su nei miei occhi bruciava infatti ho quello blu che adesso non so se vale perché è scaduto eccetera però quello blu l'ho tenuto anche se ce l'ho non sto finendo più non so perché continua ad andare boh anche se è piccolo il prodotto però mi piace di più quello blu che questo rosa perché sui miei occhi il viola non è che sta tanto bene però è buono come della Sephora è buono ma non c'è più perché l'hanno tolto per cui non so io volevo comprare quello blu ma non lo trovo più poi ho finito lo smalto di Glossy questo era bellissimo come colore peccato che l'ho finito e non ho infatti si è anche seccato era un colore tipo per Natale rosso fuoco con i brillantini era bellissimo solo che non c'è più e l'ho finito e mi dispiace perché era un prodotto secondo me molto buono specialmente il colore poi passiamo ma c'è un altro oh sì vabbè c'è un altro questo qua ha il colore diverso come vedete sempre di Bioshop comprato di Bioshop cambia solo il colore stessa cosa non mi sono trovata bene perché per stendere questo prodotto ci metto l'eternità ed era una fatica allucinante perché tutte le volte non riuscivi a stenderli era troppo duro questo prodotto non lo so anche con un po' d'acqua non si riusciva e sinceramente l'ho bocciato ne ho presi due ma non pensavo che era così tanto diciamo brutto poi passiamo alle matite scusate ma passiamo alle matite allora io non so se farvele vedere lo stesso le matite quando le finisco oppure le posso buttare perché non lo so fatemi sapere sotto nei commenti se vi interessano le matite se mi sono trovata bene oppure no perché dopo un po' che diventano così non so se comunque matita di glossip questa qui era buona e mi sono trovata bene con i brillantini ed era molto bella sui miei occhi l'ho anche finita ecco appunto caduta si l'ho anche finita praticamente per cioè l'ho mangiata per far ridere cioè per dirvi come mi sono trovata bene l'ho praticamente mangiata cioè per modo di dire poi questa qua fa cagare perché è una matita che non scrive l'ho trovata nei nelle riviste quelle per i bambini ragazzini da tanto tempo che ce l'ho e questa l'ho bocciata per cui non sono non ho continuato ad andarla avanti a usarla perché poi alla fine mi facevano male gli occhi e non l'ho più usata per cui bocciata poi questa qui della Kiko è ottima ma il problema che talmente ce n'è ancora ma talmente piccolo il coso non riesco proprio ad utilizzarlo perché è troppo piccolo per cui lo devo buttare però le matite di Kiko sono ottime poi c'è un'altra che mi è caduta non ci voglio andarla a prendere è una matita sempre per i volantini delle rivisti che ho trovato per cui facevano cagare quelle matite lì e fanno cagare tuttora questo eyeliner provato una volta non lo voglio più prendere l'ho preso da Primark è costato pochissimo 2 euro ma mi sono trovata malissimo anche per il fatto che non usciva più il prodotto infatti non esce tanto di prodotto e adesso mi sto conciando e diciamo che mi sono trovata male per cui ho deciso che i i make up di Primark cerco di rifiutarli perché non sono non fanno bene alla mia pelle e tanto meno non sono tanto prodotti buoni per cui questo l'ho bocciato non l'ho neanche finito e preferisco non finirlo perché è inutile diciamo finire un prodotto che non mi piace e che non va bene per la mia pelle poi passiamo vediamo se ci sono tantissimi campioncini ok l'ho presi tutti perché sennò non riuscivo più poi comunque allora il mascara di no questo ve lo dico nell'altro video comunque non c'entra niente questo qua la matita di Sephora l'ho bocciata infatti non sono più andata avanti a diciamo a usarla perché dopo un po' anche questa non riuscivo a metterla sugli occhi facevo fatica perché mi tiravano un casino e l'ho bocciata infatti ancora da finire però l'ho bocciata è un colore molto bello ma quando non riesco a mettere su una cosa che diventa troppo forte che è un non lo so io adesso lancio le cose vanno da tutte le parti diciamo che non mi sono trovata bene per cui preferirei bocciarla passiamo ai campioncini velocemente allora questo qui non posso dirvi che mi sono trovata bene perché non mi è tanto colpito per cui questo è un campioncino preso da bio shop ma non mi è tanto colpito per cui non dico altro questo qua idem non ha una marca cioè questo qua non mi ricordo neanche dove l'ho preso per cui non è che è stato questo della bottega verde non mi piace la crema mani alla pepe rosa no crema corpo questa qua era un po' troppo dura da stendere non mi è piaciuta tanto e ce ne ho due forse perché erano scaduti dopo un po' non fatti scadere poi idem questa che è uguale a quella che vi ho fatto vedere questo qua non mi ha dato misti e grassi ma non mi ha dato tanto non mi ha colpito tanto diciamo idem questa non so perché ma certi campioncini non mi trovo tanto bene questa è sempre della bottega verde età 30 forse perché per quelli che hanno più di 30 anni credo io non ho molto meno di 30 anni poi idem questa che è la stessa non mi è piaciuta tanto anche se l'odore era buono perché la pesca e questo idem per il corpo questo qua non mi ha colpito tanto la stendevo ed era troppo facevi fatica per cui non mi ha colpito tanto anche su quello ok gli altri prodotti sono prodotti diversi per cui direi che se vi faccio vedere il casino che c'è mi mettete le mani in capo direi che la mia spazzatura sarà felice di buttare tutte queste cose ok il video è finito finalmente meno male sono finiti tutti i prodotti per fortuna detto questo iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace attivate la campanellina così sapete tutti i video che usciranno sul mio canale un bel commentino qua sotto se avete finito questi prodotti come vi siete trovati eccetera mi raccomando seguitemi su instagram sembra sembro un prete perché ho sto colletto che sembro un prete da vedermi così fa cagare fa cagare per cui non lo so che è strano mi sembra un prete sembro davvero sembro un prete da vedere sto colletto io odio i colletti così li odio vabbè detto questo non c'entra niente comunque detto questo iscrivetevi che cosa sto dicendo seguitemi su instagram sto andando in palla ci vediamo al prossimo video che forse è meglio perché non so più cosa sto dicendo il prete sono ma si può ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie.